Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio sempre registrato di fila all'altro in cui andremo a cacciare un po' di animali con il nostro amato arco quindi forziere, beh io direi di andare qui prima e poi andare a cercare l'animale di cui più abbiamo bisogno possiamo fare un'abilità? morte dal cielo, che sembra carina fatta poi c'è morte dal basso, abbattimento pistolero abbattimento senza tracce subito poi avvento viene prenduto il res per afferrare e spostare il corpo perfetto quindi, cos'è quella roba? ah, dove dobbiamo andare noi? perfetto aspettate solo un secondo un secondo non qui, la mappa non la mappa cosa sto facendo? collezione zaino dobbiamo vendere un po' qui dobbiamo iniziare a vendere le cose? voltometro oh mio dio quindi il primo mercante che maiali 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 eh però il problema è che io cos'è sta roba? qualcuno mi riceve? serve l'assistenza immediata no non mi va se c'è qualcuno risponda è urgente non c'è nessuno io non sono non ti sento non ti vedo eh yes but where are the mercants where they serve? quindi fai da te a noi serve la fondina non ne abbiamo più di tanto un'arma secondaria trasporta un'arma secondaria e una di qualsiasi tipo ok quindi questa ci sbloccherà l'altra arma OP poi il portafogli ci serve a Sam tapiro malese lo zaino ci serve Sambur quindi il prossimo che andiamo a prendere è quello di Sambur e il Sambur sono perché io non sono capace a fare niente tu sei il Sambur? tu sei il Sambur? sei tu il Sambur? tu sei un cinghiale? Sambur Sambur come ti ok perfetto spero di incontrare almeno un mercante eh quanto tempo ho già perso in questo episodio ma quanto tempo perde il vostro Levern di nuovo qua sono davvero? perché sto andando al contrario? inversione AU poi ditemi strada è così figo il fatto che guidi da sola però perché non mi fai sparare? c'è la guida automatica che cazzo ah ecco ecco ma ho investito qualcuno? ho investito in tuo familiare? oh no ora si no andiamo non ti ho messo sotto ma per favore ecco portami a destinazione magari un po' più veloce amico scendiamo un attimo qui che magari c'è qualcosa di utile come tre frecce tieni premuto x e ripara da quando posso riparare le cose? no ma io stavo riparando io stavo riparando ma oh com'è? oh com'è che si ripara? non vibrare controller vabbè fotte sega ma che vada mercante mercante per cui ti avevo bisogno vorrei l'arco nuova arma sbloccata storm ok scorpion quasi quasi la scorpion me la compro vendiamo un po' di roba contraccettivi vendi 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 di nuovo vendi quanti ne ho di sta roba vendi 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 questa me la tengo vecchio denaro monete con il bosio ma non è la propria completamente inutile perché il potere c'è minne magari poi torna un sosio al potere va no perso elefante di plastica elefante di plastica come tanti prodotti della dive store quando ho tentato è farito la vena sulla basale vendo anche la tigra di plastica vendo prendi i prostituziamenti prepara siringhe i prostituziamenti vendi no no lo sporco dice vorrei mica venderlo e e questa tieni quindi a te amico cosa c'è scritto? ma a volte mi sembra di averci fatto tutto questo con un po' che c'è dentro ma e se io ti volessi tipo riparare? no ho sprecato ho sprecato un coltello da lancio ah no posso riprendere i coltelli da lancio? pensavo che una volta fatti non li fossero persi per sempre invece no perché nel primo episodio se vi ricordate ce l'ho rimasto malissimo quando non me l'ha fatto riprendere dove è finito adesso? dov'è il mio coltello da lancio? dov'è? anche prima ci ho perso circa 5 ore per recuperare la freccia coltello da lancio vabbè io lo cerco un attimo e poi ti prego dammelo dov'è? ah è lì tighi? coltello da lancio grazie oh io dovevo ancora prendere l'arco che mi sono dimenticato ah ecco cos'era quel tre lì quindi andremo un attimo a cercare un altro mercante speriamo di incontrarne almeno ancora uno mercante please un mercante dai avanti non posso abbatterli tutti con i coltelli da lancio effettivamente non so se i buon rottino o meno posso commerciare con voi? no io sto cercando un qualche amico con cui commerciare ti prego avevo la mia opportunità l'ho sprecata dai su via quello lì sei un commerciante? no sei un fuciliere però qua c'è un forziere no fammi passare fammi fammi fate 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 fatemi ok ma qua c'è tipo ti prego fammi rampino che sarei tentatissimo da l'utilizzare c'è ancora rampino ah ok si sto perdendo non ho più rampino che figo non sapevo ci fosse il rampino eh io taglio penso finché non trovo l'amico no perché poi devo anche andare a registrare minecraft questo è il problema dai cerchiamo solo di cambiare arma prima vieni qui piccolo c'è il piatto no non posso far fuori una tartaruga non posso proprio per una questione cos'è quella roba? è un fiore no non posso far fuori una tartaruga o me lo chiederà lui e mi servirà mercante grande amico grande grande amico vieni qua perfetto ricarica di c4 fucile d'assalto meno sì tanto ho i money e adesso a noi serve armi fucile da caccia a a adesso riposto nel magazzino perfetto b anch'io quindi adesso iniziamo veramente la nostra missione di caccia andando piano 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 oh temo di aver perso per sempre quella freccia esatto oh mio dio quasi colpito l'oro allora amico cerbiato vieni da papino vieni da papino vieni ho bisogno della tua pelle vieni da papino ma va bene anche il tuo fratellino ma almeno tu mi dai anche la freccia non è un'arco lunga gittata quindi oh mio dio sono un cecchino ragazzi sono un cecchino mi ridai anche la freccia please che le ho già perse quasi tutte grazie ne ho otto punti abilità uno avete visto no davvero avete visto dai avanti quanti di voi sarebbero riusciti a farlo voglio dire confuciare da cecchino adesso sarebbe la cosa più utile del mondo no si risparate pure io sto cercando di cacciare ok ho sprecato una freccia olè dai avanti scuoglia beh ovviamente scuoglio dai basta sparare che mi spaventate gli animali che cazzo uccidetevi pure ma con il silenziatore voglio dire non c'è più religione l'aquila ovviamente col piramè ma è lì l'aquila oh no ok ma mi è sembrato di vedere il riflesso cosa ho fatto ah ok pensavo di averti perso per sempre coltellino questa la posso prendere grande ma dove la vedi sta aquila ah là madonna quando un giorno mi metterò a cacciare le aquile va bene è eroico ok abbiamo provato un veicolo loro che non ho mai guidato tra l'altro no non mi investire bravo e a questo punto ci ampliamo un pochettino lo zaino ok adesso ci serve il maiale quindi dovremmo ammazzare altri maiali oggetti da lancio questa ci serve io lo ma presumo che per questo episodio corto molto corto che sarà penso in mezzo settimana sia tutto e noi continueremo la storia nel prossimo sì presumo di sì quindi ciao a tutti i ragazzi quanto è lento sto veicolo io vado off road vai vai voglio fare un testacoda ah schermaglia fatemi far solo la schermaglia ok non faccio la schermaglia ciao ragazzi al prossimo episodio com'è che mi teletrasporto a casa? la mappa bampur a spostamento rapido a spostamento rapido adesso vorrei scusate ma mi devo riprendere il mio fucile dendi per le pelli a siringa curativa? eh beh mi sa di sì ok tanto di soldi ho ancora 100.000 ho la pistola e lo scorpion una è molto più precisa l'altra molta più cadenza di fuoco movimento gittata è uguale danni sono uguali ma vai scorpion scorpion sia voglio dire non è nient'altro? bengala bengala gittata precisione danni il bengala è balestra oh 16 torri certo ma che cos'è danni gittata vabbè io dovrei finire aver finito questo episodio da circa cinque anni cos'è sta roba? oh che figo mi dice le posizioni di tutto non ci sono le armi se mi dai quello delle armi io ma non è ancora una cosa tipo cittare no? va bene mi compro solo un paio di frecce dimmi che ci sono le frecce frecce 7 su 15 acquista ok abbiamo tutte le frecce shotgun ma non ho nulla con lo shotgun mitra acquista pistola le ho tutte granate le ho tutte fucile di precisione beh non ce l'ho io il fucile di precisione quindi fotte sega arpioni o anche gli arpioni i dardi ah è vero quelli che avevo preso all'inizio c'hai anche ragione i dardi vabbè ciao a tutti ragazzi e al prossimo episodio ciao a tutti